Ciao, mi chiamo Francesco Gambini, ho 28 anni e sono un attore. Un attore napoletano, sono nato a Pompei, in provincia di Napoli, ma abito attualmente a Ercolano. Ho comunque appoggi soprattutto a Roma, visto che è il luogo in cui ho frequentato l'università, ho tanti amici e quindi ho diversi appoggi anche lì. Vi parlo un po' di me, sono una persona molto estroversa, simpatica a quanto dicono gli altri, ovviamente non me lo dico da solo, forse anche perché sono molto autoironico. Sono ironico in generale, anche nelle situazioni magari un poco più delicate, sempre nel rispetto, ma soprattutto autoironico, mi piace molto fare ironia su me stesso perché la considero tra l'altro una grande arma in generale, mi è servita anche a scuola quando sono stato un po' vittima dei soliti bulletti. No, loro non potevano credere che ero io il primo a prendere in giro me stesso e quindi sono diventati poi i miei amici. Insomma, quindi mi piace molto recitare, lo faccio comunque da quando avevo un'età molto 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 piccola. E vi lascio ai miei profili. Ah, ovviamente ogni tanto indosso anche gli occhiali perché mi servono, non che senza non veda nulla, però così è meglio, insomma, e me li tolgo per i profili.